Benvenuti a Bari, questo è Bari-Napoli, stelle del sud, un saluto da Vero Gipardo, Antonio Di Gennaro. Stelle del sud che hanno però un obiettivo nella testa e nel cuore, soprattutto l'Europa, un'Europa ancora possibile a grandissimi livelli per il Napoli, nonostante la sconfitta contro il Parma, che certamente ha complicato i piani, un sogno lontano, ma in qualche modo ancora lo più possibile, quello dell'Europa League per il Bari. Ampic, l'apertura verso Campagnaro, Allegretti, chiude bene in una prima fase, ma poi con sede a Campagnaro, il cross dentro, attenzione Giulia dall'altra parte, dopo l'intervento a vuoto di Chilè, prova Giulia, dentro Ampic. Attenzione, palla interessante per Ampic, Ampic, Chilè, si salva in Bari. Ampic, con il pallone verso Lavessi, si mette su di lui, prova il destro! Un azione a Napoli! Un gol straordinario di Lavessi. Imprendibile, tra le linee, dove gli piace a lui giocare, riceve palla, è abbastanza solo, magari non c'è molto presti, quando gli lo vanno a fare, si sposta sul destro e lascia partire un tiro veramente imparabile. Stava salendo Parisi, ma è stato ignorato, ancora De Veste, verticalmente su Allegretti, nella posizione del trequartista, prova Allegretti, dentro di Sanchi. Lavoro di Zuriga, senza fallo, possibilità per il break del Napoli, ancora Zuriga, attenzione a Lavessi dall'altra parte, si arriva il pallone, Lavessi! 2-0 Napoli! Il piazzato del bocio! Anche qui due errori per Luigi, perché Zuriga fa un buon anticipo, un buono scambio con il compagno, poi si sbaglia la palla, sembra in vantaggio Garzi, che poi la riperde, poi il passaggio sull'Avetti, che controlla in area di rigore, molto freddo, lucido, e non può arrivare, in questo caso Gillette, 2-0. La possibilità per il cross, che arriva adesso a cercare al Miron, che riesce a anticipare tutti, palla che può diventare buona per Alvarez, la pressione al cross di Alvarez dall'altra parte, verso al Miron! 2-1! La palla che si riapre, che ha spesso il tempo di Alvarez, ha preso una palla pubblica di prima attenzione di Alvarez, che non ha aspettato di controllare, di scurtare, ma ha visto il compagno centralmente, che l'aveva presa lui prima, e ha prolungato lui su Alvarez, sul precedente cross di Parigi, e molto bene ha staccato a Miron, giocatore fondamentale, lo ripeto, per questa squadra, uno che a volte li fa i gol, e questo può riaprire la gara, anzi, la riapre. Palla l'accio Alvarez, a pezzo è dentro a Scorsini, c'è anche Barreto, palla buona per il destro, non c'è arrivato Scorsini, con Berluso, a pezzo è al fondo per Masiello, a parte ma spada paurosamente in Napoli, ancora Salmo per Masiello, palo sul destro, con Cusera che viene ribattuto, Scorsini combatte alla fine Santa Croce, ma che occasione! Il fischio finale di Bergonzi, è una vittoria pesantissima quella che ha fatti in Napoli, una vittoria fuori casa che mancava dal 24 gennaio.